Il metaverso è? A. La realtà aumentata. B. Un universo virtuale? C. Non lo so. Io direi che potrebbe essere tutte queste cose, però non le conosco e quindi dico non lo so. Il B sicuramente è molti universi virtuali che poi auspicabilmente dovrebbero dialogare anche tra loro. E questa è la vera sfida del metaverso.